Luigi Preti, politico, scrittore, uomo di cultura. I suoi discorsi parlamentari sono stati presentati nella Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio. Ha aperto l'appuntamento il Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini. La pubblicazione dei discorsi parlamentari dell'uomo politico ferrarese ci permette di ricostruirne l'azione al servizio delle istituzioni e ci permette di farlo nella sua ampiezza e completezza. Sono intervenuti al convegno Maurizio Dell'Innocenti, Presidente della Fondazione Turati, Carlo Ghisalberti, Storico del Diritto, Angelo Guido Sabatini, Presidente della Fondazione Matteotti, che ha curato l'introduzione all'opera, e Pierferdinando Casini. Con la pubblicazione dei discorsi dell'Onorevole Preti, la Camera dei Deputati rende onore a una figura di rilievo della nostra storia recente che è molto contribuito, come ha detto il Presidente, alla rinascita e al consolidamento dell'Italia repubblicana.